Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Il foggia navegliava su di me sui miei pensieri riflessi in un bicchiere di profumato te che c'è sotto i mandorli in fiore guardavo il cielo pensando cercherò un piccolissimo mondo tutto un mio dove io sarò io e tu disegnerai dentro il blu la mia via Mademoiselle Mademoiselle A Mademoiselle Mademoiselle A Mademoiselle Mademoiselle A Mademoiselle Mademoiselle A Il dolce sole d'oriente non mi dà di ciò che voglio più niente nell'acqua chiara non mi rifletto più perché sogno nuovi orizzonti per me si alza il vento ponente soffiaggia la profuma tenebriante mia realtà sento la libertà che c'è in una rondine che se ne va mademoiselle 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 Anne Sorpresa, sorpresa, sorpresa Sempre grandi sorprese nel nostro video Finisce la serie di Mademoiselle Anne Purtroppo devo dire lacrimuccia perché ci eravamo affezionati E le Mele Verdi sono venute a interpretarci la sigla finalmente dal vivo Bentornate Mele Verdi Grazie Bentornate Allora un saluto velocissimo dalle Mele Verdi che sono? Roli Stefania Silvia Barbara Alessandra E Alessandra, bene Quindi avete visto questa, abbiamo seguito giorno dopo giorno le avventure di Mademoiselle Anne E finalmente è finita bene questa, è vero Ha un po' paura sai ne ha passate talmente di tutti i colori Questa Anna che tu hai fatto la Mademoiselle Anne Sì Insomma tu impersonavi, eri tu la Mademoiselle Anne Ti piace questo personaggio? Molto, molto E' molto femminile e poi è anche femminista contro il fidanzato che in un primo momento non gli piaceva Poi insomma finisce per innamorarsi Sì ma era bello il fidanzato di Mademoiselle Anne Molto E' so ma io Dunque piaceva moltissimo alla Frida il fidanzato di Mademoiselle Adesso tanto per dire Frida saluta le Mele Verdi Bentornate, bentornate A me hanno scritto tanti bambini Mi hanno scritto tanti bambini Sapete noi riceviamo, io ho tante letterine ogni giorno Mi hanno scritto tanti bambini Mi chiedono ma quando tornano le Mele Verdi? Ma quando vengono le Mele Verdi? Per cantare le loro canzoni Quindi abbiamo pensato che questa era l'occasione buona insomma per ritrovarci questa Mademoiselle Anne E allora come va? Progetti? Cosa state facendo? So che state facendo delle cose grandissime, meravigliose Anche la cosa importante C'è una cosa importante, sì Importantissima Importantissima Il giorno di Natale saremo qua Ecco Vi porteremo un tantissimo sole in un mondo stupendo Sì Poi il giorno dopo Santo Stefano, tutti in tutta la ginnastica e scarpette Perché vi porteremo a... scusate Che emozione, che emozione Una canzone di aerobica Ho capito Quindi ecco io... Sorpresa Sorpresa, sorpresa Quindi le mele verdi saranno con noi il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano Con sole, aerobica, non abbiamo capito niente Però è una sorpresa, non possiamo spiegare Sennò possiamo spiegare Svegliamo tutti Si pare, si pare Va bene, allora c'è... non potete anticipare nulla Eh no Lo so, io... comunque è una grossa sorpresa di aspetto a Natale Stupendo Le mele verdi che saranno al completo, perché qui c'è una parte delle mele verdi, vero? Non siete tutti Eh, manca... poi manca Paolino, il maschietto della compagnia Va bene, allora con questa grossa anticipazione, le mele verdi di Mizzia Moroso qui con noi Il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, chiudiamolo, io-io Eh? Cosa c'era? Fermato, stai di figando con la prima No, è lei che mi prende la mano È lei che mi prende la mano Ma tu devi stare tenendo, ma questa non te la molla più Allora ci vediamo domani con il nostro io-io e con le mele verdi di Mizzia Moroso No, è lei che mi prende la mano